Il documento l'ho fatto vedere a tua moglie, voglio dire, mi posso fidare di tua moglie? C'è bisogno che me lo dice, tranquilli, una tomba, non è che dici qualcosa a qualcuno? Non esce niente, tranquilli, è riservatissima, tu immagini che i primi sei mesi che siamo stati insieme, io manco lo sapevo. C'è niente da nessuno.